allora ragazzi vi avevo promesso che vi avrei fatto un video in quale commentavo il gf ebbene sì mentre ieri stavo andando al gf dall'una alle quattro praticamente mi è successo di tutto e per cause di forze maggiori non sono potuto andare alla puntata del gf lo so giuro che martedì lunedì quando sarà andrò e vi farò un blog dedicato per voi per il gf volevo parlare dunque di un argomento che mi avete chiesto veramente in tanti e l'argomento è come si può guadagnare con instagram me l'avete chiesto in realtà in tanti non ho guadagnato grandissime cifre perché con instagram sapete che non c'è la monetizzazione come ad esempio c'è su youtube su altri siti ma bensì si può guadagnare con le sponsorizzazioni è un discorso molto facile ma allo stesso tempo molto articolato quindi prestate due minuti della vostra attenzione che potrei darvi qualche consiglio su come guadagnare con instagram come ho già detto instagram non paga i propri utenti quindi per guadagnare con instagram bisogna farsi sponsorizzare da qualche azienda le aziende su instagram sono veramente assedate da influencer o partner per allora vi do questi consigli anche se non sono un fashion blogger o un influencer anche se nelle indicazioni di instagram c'è scritto che sono un influencer allora non è proprio così però grazie alcuni negozietti o privati praticamente loro mi spedivano la roba i propri prodotti che siano magliette eccetera eccetera io facevo foto storie e li pubblicizzavo è una cosa che faccio molto di rato perché praticamente non sono del settore però ho molti followers allora il mio consiglio è inutili che andate a contattare case di moda negozietti eccetera 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 è veramente una partita di tempo sono interessati a voi sono loro che contattano voi ci sono soprattutto i molti brand emergenti che hanno bisogno di pubblicità e di sicuro non possono permettersi che ne so chiara ferragni kim kardashian per fare le proprie sponsorizzazioni quindi possono utilizzare voi come promoter per i loro prodotti una volta che avete trovato logicamente un brand che che vi chiede delle sponsorizzazioni logicamente a questo brand voi dovete far aumentare il numero delle vendite perché altrimenti è inutile non tutti i brand logicamente sono a favore di questa cosa ad esempio c'è prada versace che soprattutto nel caso ad esempio diversa c'è non cercano ragazzi che sponsorizzano i propri prodotti giustamente non serve un cazzo per loro che nel loro caso che hanno delle vendite che fatturano più del pille della svizzera è letteralmente inutile che c'è tra l'altro nella politica aziendale di versace non sono molto a favore degli influencer anche se gianni ha cercato diciamo di massimizzare le proprie vendite facendo indossare i propri vestiti da top model ginaomi campbell claudia schiffer e tanti altri i brand che sono interessati a voi logicamente che studiano studiano il vostro profilo e vedono logicamente se potete essere promoter delle loro aziende perché potete avere anche un milione di seguaci ma nessuno di essi logicamente all'interesse di acquistare il loro prodotto quindi potete avere anche un profilo da 100 persone ma e magari 10 acquisteranno quel prodotto mentre potete essere un profilo da 100 mila persone nessuno acquisterà il loro prodotto logicamente alle aziende interessa la pubblicità perché lo sapete benissimo che la pubblicità è l'anima del commercio un grande consiglio che posso darvi invece quello di iscrivervi su un sito di recensione di prodotti praticamente è un sito dove vi fate arrivare in modo gratuito roba a casa attenzione che non tutti sono gratuiti perché alcuni pagate anche la spedizione è una cosa molto figa che potete avere qualsiasi cosa a casa in modo gratuito giustamente dopo ho fatto una piccola recensione sul prodotto che vi arriva consiglio di non perdervi assolutamente d'animo e che ci sono riuscito io a guadagnare qualcosina su instagram in realtà ho guadagnato molto poco pochissimo però non perdervi d'animo e cercate man mano logicamente non sono cose che si possono fare la sera per la mattina però non sono cose impossibili quindi se ci credete fatelo se volete qualche consiglio mi scrivete in direct commentate eccetera 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 la seconda cosa mettete un like e seguitemi se il video vi è piaciuto il video vi è piaciuto Grazie a tutti.